Rilanciare il tema della responsabilità sociale d'impresa nel Paese, lo chiedono INAIL e Italia Lavoro. La responsabilità sociale non è stata certamente tenuta in grande considerazione, visti i risultati e gli impatti che hanno avuto determinate azioni sull'economia reale. Noi oggi facciamo il punto della situazione in collaborazione con Italia Lavoro, con cui intendiamo rilanciare il tema, anche perché siamo portatori di una responsabilità importante come INAIL su un sistema sociale italiano che richiede fortemente la nostra presenza su tutti gli aspetti, la sicurezza del lavoro, la prevenzione, la riabilitazione e l'inserimento lavorativo. INAIL quindi in prima fila sul bilancio sociale e sulla responsabilità sociale delle imprese. Noi stiamo intervenendo ad ampio raggio su tutte le tematiche riguardo il welfare e riguardo complessivamente il benessere sociale e anche occupazionale e lavorativo delle persone. In questo senso, in questa ottica, la responsabilità sociale d'impresa, la corporate responsibility, diventa uno strumento importante affinché si abbia una condivisione della responsabilità sui cittadini, sui soggetti, sui coloro che operano nella società, proprio per aiutare i soggetti che lavorano e che hanno bisogno di maggiore assistenza e maggiore aiuto. Il vero tema è portare la responsabilità sociale come tema che ha a che fare con la competitività e la qualità stessa dell'impresa, cioè la capacità di valorizzare le risorse umane, la rete dei fornitori, il collegamento con la comunità locale, il rispetto dell'ambiente come elementi caratterizzanti, il ruolo stesso dell'impresa e anche il successo dell'impresa, è un tema molto collegato a una crescita culturale del ruolo dell'impresa e delle relazioni sociali.